Siamo qui ospiti della Polizia di Stato per guardare da vicino delle macchine speciali, le pantere della Polizia. Vi aspettavate di vedere forse un Alfa Romeo o una macchina italiana? Invece no, questa qui è una Seat Leon. Perché la Seat Leon? Perché da quando le norme europee sugli appalti sono state liberalizzate, tutte le case automobilistiche possono partecipare ai bandi e in questo caso la gara è stata vinta appunto dalla Seat. Lo scopo della nostra visita qui è di farvi vedere queste vetture nel dettaglio, negli interni. Il primo dettaglio che balza all'occhio entrando a bordo della Seat Leon è questa striscia di cuoio che copre parzialmente i pulsanti degli alzacristalli. Lo scopo è ben preciso ed è quello di evitare che l'operatore possa accidentalmente azionare i cristalli posteriori se per caso viene trasportata una persona che è stata fermata per motivi di polizia. L'aspetto non è molto diverso da quello della vettura di serie, ci accorgiamo però subito che c'è qualcosa di diverso. Innanzitutto la guarnizione del parabrezza blindato sporge parecchio all'interno, inoltre il sedile non può essere spostato molto in senso longitudinale. Perché è presto spiegato? Tra i sedili anteriori e quelli posteriori c'è un divisorio di plexiglass che serve per isolare appunto gli operatori di polizia da un eventuale fermato. E visto che c'eravamo non potevamo non provare la sensazione di trovarsi dalla parte sbagliata della legge. Lo spazio dietro è angusto però non si sta poi così scomodi anche se comunque di qua non ci vorremmo mai trovare. Se qualcuno sta pensando che il divano posteriore di plastica può essere scomodo in realtà è utilissimo per il servizio di pattuglia, infatti può essere velocemente ripulito con l'idropulitrice e sul fondo della vettura sono previsti dei fori per lo scarico dell'acqua. Come potete vedere c'è l'apparato radio che permette ai poliziotti di comunicare con la centrale e qui al centro il joystick che permette di comandare il sistema che è sul tetto con le sirene, le luci brandeggiabili e il pannello a messaggio variabile. L'arma lunga in dotazione agli agenti è la pistola mitraglettrice Beretta M12 calibro 9. Sulle volanti può essere ancorata un supporto che è a prova di effrazione. La Seat Leon tuttavia non è l'unica Pantera attualmente in dotazione alla polizia di stato. C'è anche questa qui che è la Fiat Bravo, ha qualche anno sulle spalle ma è ancora valida. La Fiat Bravo rispetto alla Leon ha qualche dotazione in più. Vedete questo tablet? Non serve per giocare, fa parte del sistema Mercurio che equipaggia questa Pantera della Polizia di Stato. Attraverso questa telecamera il sistema Mercurio è in grado di riprendere tutto quello che si para davanti al muso della vettura ed è anche in grado di leggere le targhe, capire se una vettura è rubata. Il tablet, chiamiamolo così, che fa parte del sistema mostra le funzioni dell'apparecchio e soprattutto le immagini. Può essere asportato dalla vettura e il poliziotto può portarlo con sé per continuare le riprese mantenendo il contatto con la sala operativa. Uno degli aspetti più interessanti delle Pantera della Polizia di Stato è il fatto che rispetto alle vetture normali da cui derivano sono dotate di una leggera blindatura. Per esempio questo parabrezza qui è molto più spesso del normale ed è in grado di resistere anche a colpi di arma da fuoco. All'interno della portiera c'è un pannello in Kevlar che si slotola e consente un certo grado di protezione all'operatore. Se vi state chiedendo che cosa trasportano nel bagagliaio, noi ve lo facciamo vedere. Uno zaino in cui sono contenuti effetti personali degli operatori, una valigetta con documenti e altre carte operative, questa cassetta di metallo che vedete qui nell'angolo della vettura in realtà è l'apparato radio e qui in queste custodie ci sono i caschi per ordine pubblico. E se è necessario scrivere c'è anche la possibilità di farlo. Una luce di cortesia permette ai poliziotti di redigere verbali o di prendere appunti. Anche la Seat Leon come la Bravo permette di usare il ripiano posteriore per scrivere o per prendere appunti ma invece di una luce di cortesia brandeggiabile c'è un piccolo led qui sotto. Inoltre sul portellone sono presenti delle luci che permettono la visibilità durante la notte. In ogni modo se vedete questa scritta qui fermatevi eh!